siamo in compagnia di massimiliano ferretti l'allenatore del casalotti mister una partita difficile siete riusciti a passare in vantaggio l'episodio del calcio di rigore la rimessa in parità poi andate sotto riuscite a riprenderla secondo lei alla luce di tutto quello che è successo sono due punti persi un punto guadagnato ma bisogna vedere come bisogna vedere come uno guarda la partita perché secondo me è un punto guadagnato se primo tempo glielo abbiamo regalato secondo tempo abbiamo fatto un'altra partita abbiamo fatto abbiamo cambiato qualche cosa ed è andata molto meglio però insomma il calcio di rigore si poteva evitare perché troppo spazio loro sono molto bravi hanno messo hanno quel finucci davanti che veramente molto molto bravo capitano loro poi per me è uno dei più bravi che c'è qui alla lega e quindi il portiere loro ha fatto tre o quattro parate al primo tempo molto molto importanti e l'ha tenuto in partita cosa si porta fuori da questa partita per affrontare le prossime porto sempre una gran gioia perché poi alla fine questa è una squadra che è stata fatta per salvarsi siamo lì a ridosso dei playoff noi siamo sempre partiti con sei partite in meno stiamo facendo bene diciamo che adesso ci sarà la coppa di lega in mezzo ci sarà e poi affronteremo un'altra battaglia perché il campus euro è un'altra squadra che si sta giocando la la qualificazione fortunatamente siamo riusciti a riadrezzare la partita perché pareggiando con loro comunque come differenza reti stiamo messi meglio quindi diciamo che dovremmo stare ancora sopra sopra loro vediamo quello che succederà nelle prossime partite grazie mille grazie